Buona giornata amici di Fano TV, benvenuti alla rassegna stampa di oggi. Oggi mercoledì 26 aprile 2023, oggi si festeggia, lo vediamo subito nella grafica, San Anacleto Papa morì martire sotto la persecuzione di Diocleziano, siamo a cavallo tra il primo e il secondo secolo, quindi ancora i primordi della chiesa cristiana che si stava così affermando in tutto il mondo allora conosciuto per quanto riguarda soprattutto l'impero romano. Vediamo le previsioni del tempo, vediamo che oggi sulle Marche il tempo migliora, lo diciamo subito. Vediamo infatti il sole che appare un po' su tutta la regione, un mercoledì all'insegna del bel tempo sulle Marche anche se con una nuvolosità sparsa in transito ma senza fenomeni. Le massime sono in aumento, le minime 9 gradi, le massime 17, i venti sulle coste espireranno da una direzione ovest-nord-ovest mentre nell'interno nord-nord-este il mare è leggermente mosso. Una situazione ancora di bel tempo sulle nostre province dopo che nella giornata di ieri insomma il tempo si è alternato tra Sereno e Acquazioni un po' su tutta la regione. Apriamo il giornale oggi a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo una dichiarazione del sociologo Maurizio Tomassini per quanto riguarda un'indicazione per il nuovo piano regolatore che è in atto di redazione che sta facendo la giunta a fine mandato. Un centro di urno in ogni rione, i non autosufficienti devono acquisire la priorità secondo Tomassini, il quale sollecita un'adeguata previsione nel nuovo piano regolatore. Occorre prevedere in ogni quartiere di Fano un centro di urno per non autosufficienti, ora ne abbiamo solo uno in un'area extraurbana. Ebbene Tomassini propone un ulteriore elemento di riflessione per il dibattito sul nuovo piano regolatore e la sintesi dello stimolo è solo integrando il sociale e l'urbanistica si potranno dare le risposte adeguate ad una società che invecchia. E' vero, il dato demografico della popolazione fanese va verso l'invecchiamento e quindi occorre predisporre sia dal punto di vista urbanistico che sanitario che sociale tutti i provvedimenti necessari per far sì che l'invecchiamento della popolazione non desti ulteriori problemi a parte quelli che già ci sono e occorre ovviamente incentivare anche le nascite che costituiscono il futuro della nostra comunità. Ieri 25 aprile in tutte le località delle Marche si sono svolte le celebrazioni della festa della liberazione e della resistenza. Anche il partigiano centenario alla festa del 25 aprile a Fano che si è svolta ieri con grande partecipazione di cittadini ebbene tra loro c'era anche un centenario che negli anni 40 aveva fatto anche il partigiano. Era stato richiamato alle armi, doveva frequentare un corso per allievo ufficiali. Comunque l'8 settembre ha interrotto questa sua formazione. Lui è tornato a casa e si è iscritto, si è iscritto, ma ha partecipato alle brigate partigiane nella zona di Iesi. Lui è originario di Iesi ma ora abita nella nostra città a Fano. Ebbene lì aveva il compito di sabotare un po' le strade, i ponti per rallentare l'avanzata delle truppe tedesche. Anzi diciamo così la ritirata delle truppe tedesche incalzate dagli alleati. Alleati che poi nello Iesino sono arrivati nel mese di luglio, mentre nel Falese sono arrivati in agosto. E il 27 agosto poi festeggeremo un ulteriore anniversario della liberazione di Fano. Dunque anche il partigiano centenario alla festa del 25 aprile. Vediamo come il resto del Carlino riporta la notizia per il 25 aprile. Sfilano anche gli insulti, manca fratelli d'Italia ma loro sono assenti, giustificati hanno detto. Nel mirino di una parte del corteo la russa e Meloni. Ovviamente ci sono un po' gli oltransisti, quelli che usano un po' il 25 aprile per fare una polemica politica. Il sindaco invece invoca la pacificazione e la storia del partigiano Serrani. Si tratta di Giacomo Serrani, cent'anni, lo vediamo qui, che mostra la tessera della Ampi. Insomma anche lui è un vecchio uomo che ha lottato per la libertà. La bandiera della pace, il tricolore, le note di Bella Ciao da una parte, l'odore dei fumogeni rossi e i corretti contro le più alte cariche dello Stato dall'altro. Un paio di vaffa hanno anticipato le celebrazioni del 25 aprile nella città della Fortuna. Ovviamente agli inni che ha suonato, che ha eseguito la banda Città di Fano, poi sono seguiti i canti di Bella Ciao da parte degli stimatori dell'Ampi, delle donne in nero, insomma di coloro che si dichiarano proprio convintamente antifascismi. E soprattutto gli striscioni inneggiavano all'antifascismo e alla resistenza. Poi ci sono alcune osservazioni che la giornalista Tiziana Petrelli fa in merito alla festa, alla manifestazione che si è svolta ieri, passando dalla lapide affissa sulla facciata della residenza comunale, dove si ricordano i partigiani uccisi, fucilati, dove un vigile del fuoco è salito su una scaletta mentre sotto c'era il vice prefetto Angeloni, il sindaco di Fano Massimo Seri, per apporre una corona dall'oro. Quindi il corteo si è spostato, si è soffermato sul monumento della resistenza che si trova nei pressi della Rocca Malatestiana e quindi è giunto nel monumento ai caduti di tutte le guerre che si trova in Viale Buozzi. E anche qui è stata deposta una corona dall'oro. Per quanto riguarda il monumento di Viale Buozzi, purtroppo sono ancora presenti quelle scritte vandaliche che lo hanno deturpato e forse era il caso in occasione del 25 aprile di ripulirlo. È stato un atto veramente così stupido, non diciamo altre cose perché altrimenti dovremmo usare degli aggettivi veramente pesanti. Giriamo pagina. La rabbia dei camperisti sgomberati, i campeggiatori, giusto, sono abusivi. Ebbene, ci sono stati dei controlli della polizia, leggiamo sempre sul resto del Carlino, ci sono stati dei controlli della polizia locale, dei vigili urbani, ne hanno fatti parecchi in questi ultimi tempi nell'area di sosta camper di Viale Ruggeri. Ebbene, una turista che è stata costretta ad andare via replica, ci hanno fatto togliere tutto. Cosa ci veniamo a fare se non possiamo nemmeno mettere un tavolino con due sedie? Questo è stato l'interrogativo della turista, ma ovviamente quello non è un campeggio, è un parcheggio. Un parcheggio dove le regole dicono che non si possono esporre tavolini e sedie. Quindi se la signora vuole esporre tavolini e sedie va in un campeggio e non in un parcheggio. Quindi una protesta un po' così, non certo giustificata al 100%. Comunque la replica del rappresentante dei camperisti a medieutarsi della Conf Turismo dice che finalmente il Comune comincia a fare rispettare le regole e la polemica dell'area di sosta di Viale Ruggeri va avanti da un pezzo. Restiamo su questa pagina per vedere altri due articoli. Al Piccolo Mondo e Guerrieri due premi per il migliore olio. Si parla della premiazione che si è svolta sabato scorso per quanto riguarda il gran galà dell'olio che si è svolto nella Pinacoteca di San Domenico. Sono stati premiati oltre produttori che sono venuti a Fano da tutte le regioni d'Italia, ma anche dall'estero. Ci sono stati esponenti che sono giunti dalla Croazia, dalla Turchia. Veramente Fano diventa il centro più importante per quanto riguarda la qualità dell'olio a livello europeo. Ebbene, ci sono stati anche esponenti locali che sono stati premiati per la qualità del loro prodotto. E questi sono anche i rappresentanti del Piccolo Mondo e dell'azienda Guerrieri. E poi parliamo dell'International Jets Day. La musica entra in classe. Ebbene, il 30 aprile prossimo si svolge questa manifestazione in tutto il mondo, l'International Jets Day. Ma oggi a Fano, in previsione di questa giornata, si svolge una bella iniziativa che viene organizzata appunto dall'organizzazione di Adriano Pedini. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella Sala della Concordia dell'Amministrazione Comunale e coinvolgerà quest'anno anche gli studenti del liceo a Polloni con la band Atos. Il clou poi sarà domani a teatro. Ed ora passiamo nell'entroterra, sempre sul resto del Carlino. Abuso d'ufficio, indagato il sindaco Sebastianelli. Il sindaco di Terre Roveresche avrebbe facilitato le pratiche per il cambio di residenza della figlia della compagna. L'udienza sarà celebrata ad ottobre. Spero che il PM ascolti al più presto i funzionari che hanno redatto la pratica, ha detto Sebastianelli, il quale si difende ovviamente asserendo la correttezza del suo stato, di quello che ha fatto. C'è comunque di mezzo l'amore, intitola oggi e l'arresto del Carlino. C'è l'amore, ma c'è anche la legge, c'è il ruolo e le conseguenze, insomma, tutto quello che capita, la vita, dice Roberto Damiani. E' quello che sta succedendo al sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, di Italia Viva, accusato dalla procura di Pesaro di abuso d'ufficio in concorso con la compagna per una residenza concessa alla donna e alla di lei figlia minore, violando una regola semplice ma chiara. Se il papà della minore non è d'accordo per lo spostamento di residenza della figlia, l'atto non si può espletare. Lui ovviamente non è il padre di questa bambina e quindi la mamma infatti è separata, non può portare a vivere la figlia minore dove vuole in mancanza di motivi come salute, lavoro, necessità, incombenti e quindi occorre il parere anche del padre. Ovviamente non ci sono questioni di interesse venale per quanto riguarda questa cosa, è una situazione di interesse burocratico. A centro pagina vediamo il capogruppo del Movimento 5 Stelle nella regione Marche, Marta Ruggeri, che difende il festival Passaggi per quanto riguarda le accuse di invitare soltanto esponenti, oppure in grande maggioranza esponenti di sinistra. Il comune si impegni di più, queste polemiche sono infondate, ha dichiarato Marta Ruggeri. E poi a fondo pagina invece abbiamo le dichiarazioni di Tiziano Busca, in rappresentanza del Partito Socialista per quanto riguarda il futuro dell'ospedale Santa Croce di Fano. Difendiamo il Santa Croce, Busca lancia la sfida a Seri. Sono sempre socialisti che dialogano tra di loro. La proposta è quella di istituire un tavolo di lavoro per costruire una posizione unica sulla sanità cittadina e questo veramente è un bel obiettivo. Continuiamo ora l'esame sul Corriere Adriatico perché c'è un articolo che riguarda sempre la sanità. Buche e sosta selvaggia, rischi anche in ospedale. Il recinto dell'ospedale Santa Croce è costellato appunto di sentieri, di vialetti e questi vialetti vengono percorsi anche dalle ambulanze che hanno una posizione privilegiata rispetto alle altre macchine. E purtroppo le ambulanze invece sono penalizzate. Sono penalizzate innanzitutto dal cattivo stato degli asfalti. Buche, avvallamenti, pensate le persone che ci sono dentro che magari stanno male e hanno così delle ossa rotte con i sobbalzi, pensate come giungono contente all'ospedale. Ma non solo. Ci sono poi trasferimenti non solo in ambulanza, ma ci sono trasferimenti anche in carrozzina oppure in lettiga e quando ovviamente una carrozzina inciampa su una buca oppure affonda la sua ruota in una buca, certo che ci sta sopra, non è affatto allegro. È una situazione, questa problematica, che evidenziano due consiglieri comunali Piero Valori e Mirko Pagnetti. Piero Valori della lista civica Noi Città e Mirko Pagnetti di Insieme e Meglio. Piero Valori tra l'altro è un operatore per quanto riguarda le ambulanze. Ma poi ci sono anche altri problemi, come per esempio l'intasamento dei vialetti di macchine private. Quindi le ambulanze quando arrivano non sanno dove sostare. Lo vediamo qui in questa fotografia, il vialetto è pieno di macchine e poi vedete lo stato degli asfalti con le buche, le pozzanghere, gli avvallamenti e via dicendo. Inoltre quando si giunge nei pressi del pronto soccorso dove scaricare i malati e il fatto che non ci sia una tettoia, un riparo contro il maltempo, quando piove, quando fa freddo, ebbene gli ammalati che già stanno male una volta scaricati forse stanno anche peggio. E quindi occorre la sintesi di tutto questo con queste parole. Bene pensare alle nuove strutture, bene pensare ai nuovi servizi, ma occorre sistemare anche l'esistente. Non si può trascurare la situazione attuale. Ed ora diamo un'occhiata alla pagina della Val Metauro. Fossombrone, ultimo cimitero in degrado, via ai lavori di adeguamento. Si tratta della sistemazione e ristrutturazione del cimitero della frazione di Montalto-Tarugo a Fossombrone. La frazione attendeva l'opera da anni, poi toccherà a Calmazzo. Nel nostro comune esistono dieci cimiteri, di cui nove già restaurati. Si legge in una nota che è stata redatta dalla Giunta Comunale. L'ultimo, nel 2010, è stato quello di San Pietro in Tambis. Adesso bisogna intervenire a Montalto-Tarugo come da impegni presi da questo esecutivo. Nel bilancio previsionale sono state stanziate le risorse necessarie per la messa in sicurezza del muro di recinzione che ormai è in condizioni fattiscenti da anni e quindi si interviene. Ha destato molta impressione il comportamento di una persona, di un sessantenne che siccome era disturbato dal chiacchiericcio, dalle voci dei ragazzi che festeggiavano un compleanno di uno di loro nei pressi della sua abitazione prima è intervenuto con una spranga, poi siccome il vocio continuava ha sparato un piombino con una pistola a piombini contro i ragazzi ferendo uno di loro. Ebbene, questo ha destato veramente molta molta emozione tra la popolazione perché è stato un comportamento ovviamente abnorme e l'uomo è stato denunciato. Il sessantenne è stato perquisito, denunciato dai carabinieri di Fossombrone per detenzione di arma impropria in un luogo pubblico. Dovrà rispondere di lesioni provocate dal suo gesto ed è intervenuto anche il nucleo radiomobile di Fano. Il fatto ha destato infatti un enorme clamore. Andiamo a San Costanzo. A San Costanzo splende il borgo di Stacciola, festa per famiglie e bambini. Il sindaco Sorcinelli cita Pavese e Olivetti e si commuove. L'aiuto dei volontari. Ebbene, anche i sindaci hanno un cuore, hanno un'anima e qualche volta quando vedono delle cose che impressionano, impressionano dal punto di vista emotivo, anche loro si commuovono. È stato comunque il parroco Don Emanuele Lauretani a benedire il restauro e la riqualificazione del borgo di Stacciola. Mentre Elisa Goffi, che è presidente della neonata Proloco, ha detto che per noi è stata una giornata storica in cui abbiamo riunito le famiglie con i bambini che hanno decorato la nuova pavimentazione in collaborazione con l'asilo del bosco. Ebbene, una bella festa per questa frazione sulle colline metaurensi. A Pergola si sistemano le fogne e i deporatori che sono stati occlusi dall'alluvione. Gli interventi per 5 milioni gestiti da Marche Multiservizi a Cantiano, Serra Frontone e Pergola partono oggi questi interventi di somma urgenza. insomma urgenza, ormai sono passati diversi mesi dall'alluvione. Comunque in queste località per un importo di 5 milioni 148 mila euro. Comprendono opere a cui viene data priorità per una rapida esecuzione al fine di prevenire criticità soprattutto dal punto di vista igienico. E siamo a Senigallia. A Senigallia, a fondazione Sciocca e via il commissario per i giudici, anche l'Asur deve restituire. Sono rimborsi da 14 milioni e mezzo. La risoluzione è stata presa in Consiglio Comunale contro il rinnovo di Cannafoglia. Ebbene, che cosa è accaduto? Il titolo non si capisce bene, comunque l'incipit dell'articolo è molto esaustivo. Rigettato dalla Cassazione, anche il ricorso dell'Asur, riunito con quello della Fondazione Città di Senigallia, sul caso degli espropri per la terza corsia e complanare. Ecco appunto, questo è il problema. Gli espropri per la terza corsia e della complanare. La sentenza, depositata lunedì, è stata trasmessa dall'Avvocato Corrado Cannafoglia, commissario straordinario della Fondazione, alla Regione e al Comune. I due ricorsi sono stati riuniti in uno solo, trattandosi della stessa materia. Questo per quanto riguarda appunto questo punto, che è da diversi anni, pensate da quando è stata fatta la terza corsia autostradale nei pressi di Senigallia. Vediamo anche la notizia di Pesaro. Ieri festa, esplosa la Movida sul lungomare nella zona Porto a Pesaro. La Movida è già esplosa con il risico dei locali e l'assalto ai due porti. Bastano le prime riaperture di aprile per capire come il cuore pulsante della Movida si sia spostando dal centro di Viale Trieste e Levante alla strada tra i due porti direzione lo spiazzo della Nuova Darsena, dove si radunano centinaia di giovani all'ora dell'aperitivo. Guardate queste fotografie, vedete l'assembramento di giovani che si è verificata appunto anche ieri nella zona tra i due porti, qui vediamo tutta Baia Flaminia con le sue costruzioni. Però ci sono anche dei problemi. La strada tra i due porti è pericolosa, auto e moto la percorrono a cento all'ora, i controlli sono necessari. La strada tra i due porti è un lungo rettilineo, quindi gli autisti sono un po' motivati, così insomma, per conto loro a premere sull'acceleratore. E comunque non molla Andrea Biancani a chiedere maggiori controlli e dissuasori perché possa rallentare questa velocità. Il grande business dei rifiuti speciali, sito a oltre 500 metri dalle abitazioni. Aurora SRL chiede l'autorizzazione per riceci considerando la filiera urbana degli scarti e la differenziata. Questo articolo riguarda la realizzazione della nuova discarica per rifiuti urbani non pericolosi che si prospetta per l'entroterra pesarese. È un progetto di un impianto complessivo polifunzionale nella località Riceci del comune di Petriano, a poca distanza dal confine con Urbino e quindi nella località di Ponte Armellina. L'iniziativa privata, in questo caso, intende dare una risposta alle esigenze delle aziende pesaresi, che è stata poi esigenza rappresentata più volte dalla presidente di Confindustria, la Baronciani, di abbattere i costi per lo smaltimento dei rifiuti produttivi, che ora vengono portati fuori regione con un aggravio per quanto riguarda il costo del servizio a carico delle aziende. Questo è un progetto veramente imponente perché, secondo la relazione prodotta dalla società proponente, nella piccola valle di Riceci, che forma poi un anfiteatro naturale, dove fin dagli anni 90 era attiva una modesta discarica comprensionale, si abbatterebbero in 25 anni 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Quindi veramente un provvedimento di un impatto ambientale considerevole. Vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico. Da Comune e Università, Premio alla Forza di Laura. Si tratta di una studentessa disabile che ha conseguito la laurea magistrale e ha pubblicato due libri. Ed è la prima volta in assoluto che due istituzioni così alte della città, Comune e Università, congiuntamente destino spazio durante l'assise comunale, durante il Consiglio Comunale, ad un gesto apprezzabile e nobile, così come questo riconoscimento che viene dato a questa studentessa. L'attestato le verrà consegnato nel Consiglio Comunale di domani pomeriggio. Ed ora continuiamo invece il nostro esame sul resto del Carlino. Abbiamo visto quello che è accaduto a Colli al Metauro. Diamo un'occhiata invece a Pergola, dove riapre il ponte. Era chiuso da più di sette mesi. E il collegamento all'ingresso di via Kennedy, chiuso per i danni dell'alluvione. E il sindaco Guidarelli, cittadini e imprese hanno subito disagi importanti, ma ora l'infrastruttura, ha detto, è sicura. E quindi si ristabilisce questo collegamento. Invece, per quanto riguarda Urbino, il resto del Carlino privilegia la cerimonia della liberazione. La festa è per la democrazia. Il settantesimo, il settantottesimo anniversario è stato celebrato in piazza e al Monumento ai Caduti, con le note dell'orchestra della Cappella Musicale. E questi sono un ampio fotoservizio per quanto riguarda la festa della giornata di ieri. E qui noi possiamo concludere la nostra rassegna stampa. Vi do appuntamento per le notizie del giorno al Tg Occhio alla Notizia di questa sera alle ore 20 e 30 e per la rassegna stampa a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per la visione! Grazie.